habla 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 espanol, tu habla espanol, tu parla, tu habla, tu cagano in castor, habla espanol, mangiare un melone, porca troia, porca il camion, scappa la piscia, mi scappa il melone, mi piace la fiba, mi piace il... è arrivato un melone e non la potevo fare, vai! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo tornati dopo millenni allucinanti su fifa in coppo con stephanie ciao! ragazzi ci apprezziamo per questo ultimo video su fifa prima dell'uscita dei nuovi giochi di calcio che sperano... come l'ultimo video? no, gli ultimi video su fifa ah ok poi dopo c'è agosto, agosto ci sono un po' meno video, settembre escono i nuovi giochi, quindi si spera di iniziare con pesce e fifa nuovo dai quindi cerchiamo l'avversario e vediamo cosa succede e abbiamo anche zio cavallino qua dai, lastonvilla contro bozburg dai, lastonvilla è carina come squadra, ci sta, è divertente, pure il messico era divertente, però non è stato poi così divertente la nostra preparazione è Ablo Ablo eh no, vabbè, la riprendo, la riprendo vai dentro che fallo quello ma stiamo giocando a pettinare i poni, i my little poppy allora vi dico io, se perdiamo, potete mettere dislike senza problemi ma stai scherzando se vinciamo, ventimila mi piace, perché noi non giochiamo da tantissimo, abbiamo ripreso ora per giocare insieme ma non dare la libertà di mettere dislike ma sì, ma tanto vinciamo, è questo il fatto cioè, è la sfida tanto vinciamo perché siamo forti, ormai abbiamo trovato il feeling tranquillo gioca palla gioca palla, non la perdere non la perdere non la buttare a cazzo per l'altro eh, dovevi tagliare al centro, invece è tagliato sul lato sì, tagliare il salamino è stato un errore di capimento è troppo tardi eh, va a cagare, va ero in fuorigioco cosa fuorigioco, cosa fuorigioco? Tito, gioca, tira va bene, va bene così ci sta, il dodicesimo, un tirozzo ci sta sì, non abbiamo paura di nulla, vinciamo 2-0 oggi ma non ho detto che ho paura di qualcuno però 2-0 ma scusa, ma chi c'è di forte in questa squadra? 20K abbiamo ma dove? in panchina le hai lasciato in attacco sta sì, sì oh, c'è 20K l'importante è crederci crederci di brutto te la butto su ma mi riprendono sempre ma non c'è lo spacco tutto l'importante è mettergli pressione perché poi con calma arriveranno le azioni allora, punto 1 comunque non prende stavi dicendo, scusa? punto 1, non prendere chili nel periodo di allenamento fondamentale ragazzi, allenatevi e mangiate poco nel periodo di allenamento è meglio stare senza prendere peso che sfiga che ridi prendi sta palla e passala dai, dai, dai va bene io ho detto che vinciamo 2-0 non ho detto che vinciamo 2-0 ma hai detto che vinciamo 2-0 però vabbè dai, non stiamo opinionato stiamo facendo le cose serie la smetti va bene, non uso più il tondo dai non lo uso più il tondo non lo uso più eh tu tagli il prato in ogni partita cazzo fai un favore al giardiniere vai bello così guarda che palletta là eh, peccato che era troppo lunga cazzo ecco non uso più le scivolate prendiamo della gente che già prendiamo la pensione allo spizio mannaggia o cuore mannaggia ma io posso scivolare? no, no ah, tutti e due quindi vai truttata su vai lavati dal cazzo a merda ma che sfortuna parla parla io non scrivo ma tu non parla tu parla stavo da solo al centro stavo da solo no, hai ricoperto è ricoperto no, hai ricoperto no, hai ricoperto vabbè vabbè dai concediamogli questa cosa andiamo avanti evidently 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 a dove? lì l'ho passata ma la pezza l'ha scordata non voleva non dovevamo scivolare lì c'è stata una forbice non devi scivolare non scivolare non scivolare non scivolare vieni da ridere portiere ti stai agitando vai 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 ma cosa vai eh what no fuori gioco no non era fuori l'area sul rimpale era goal no non era fuori gioco no a parte io sono stordi dal caldo torrid freddo non guarda qui cosa fa quelli stordi bene io sto tipo 0 gradi in casa 0 gradi si aaaah siiii come si chiama quello bugato agbola laor agbola laor agbola si è lui si è lui agbola laor oddio sobra te la do eh la fama dammela eh eh la fama di noè prendila eh sto provando il bene e nel male non li lasceremo e culo lo li rifaremo bo 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 perchè ha lo stop da fenicotteri gli fenicotteri sono bravi master nostra nostra portiere bravo hai parato? no bravo ah ok spiega la mia catturali tutti mettila master ball vai ma cos'è ma porca cagna dora catch ball death fred dora 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 non c'entra niente dora è quella che esplora eh vabbè ma come faceva? non era dora che non è la gotta catch ball che dora catch ball che dora catch ball sotto va va la bomba finca la parte dei dirigiti del fuoco cazzo hai cambiato lavoro eh niente niente si inchiozza come un troll delle caverne va niente niente si così ora lui è quello bugato è ancora on mi piace come si è comportato prendiamo sta palla l'importante è non far segnare il secondo ok OH MAGASSI che cazzo c'hai sulle mani non ti sgrillettare in porta Oshua una merda non è Oshua vabbè Shal 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 lo ha Shal quello era il Messico 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 il tappo ca tutto no non fare così stai non perdendo ci sono oddio il portiere ci sono sulla linea io non c'ero però non c'ero non puoi dirvi no eh che è stato passato? tu sicuro? come sempre ammazziai di me ahhh sbagliato mi dispiace ma la psicologia è facile non farlo mai invece no lui lo deve fare ma cosa fanno che io lo faccio per agitazione come porca cagna se facevo col qui mi perdono avanti calma 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 non perdere la concentrazione che do perdono almeno ripartire con un pareggio perché c'è una mamma vabbè la schiata perdono non ti preoccupare che dopo ti picchio con la cucchiarella la cucchiarella e la casse finita no non è finita non è finita appoggia di nuovo sopra mai no non mi ha dato ricorda no non mi ha dato ricorda non mi ha dato ricorda non mi ha dato ricorda calma non ci chiedo appoggia appoggia di nuovo sì portatelo giusto il tuo i watch non mi ha dato ricorda ci siamo tir про lo ma vinci cosa vincione no Age non vi sia prendi quella palla prendila prendila vai piano nooo Mannaggia il cazzo, mannaggia Ora sulla fascia lì Stoooo Vabbè, ci sta Dai, però siamo tornati a un pareggio Sconfitta, pareggio, canale tuo vuol dire Matematicamente vittoria Io sono triste, 2 a 2, ho sbagliato di 2 Hai solo detto che Noi facevamo due gol, ma gli altri pure Ho detto che noi facevamo due gol, ma Allora mi sono scordato di dire Mi sono scordato di dire che le ho lasciano due gol Allora, il ritorno su FIFA è stato Un po' traumatico Lo ammettiamo, dobbiamo riprendere Il nostro feeling Magari nel prossimo anno su FIFA Partiremo più carichi E vediamo sul Cane Step Cosa succede, speriamo di vincerla Perché l'abbiamo promesso, cazzo, promesso di vincere Sul Cane Step, quindi la dobbiamo vincere per forza Consigliateci una squadra, ma Consigliateci una squadra che non sia il Real Madrid Ma una squadra decente da provare E noi ci vediamo in prossimo video Bye